Il lavoro che abbiamo condotto in quest'ultimo periodo ci ha portato ad avere da parte della regione una disponibilità economica che attraverso anche il recupero di alcuni fondi, il lavoro che è stato condotto sulle morosità, sulla ricerca di possibili nuove entrate, ma senza andare ad intaccare minimamente il ruolo sociale dell'ente, ha prodotto un significativo risultato e anche per testimoniare un certo rispetto a quello che è un pezzo di storia di questa città, di questo comprensorio, i tre palazzi storici che oltre ad essere importanti da un punto di vista abitativo, ma hanno anche numerosi negozi e locazioni commerciali, abbiamo pensato di procedere alla sistemazione di quelli che sono i cornicioni, ma anche di quelli che sono i canali, quelle che sono le difficoltà che noi riscontriamo soprattutto nei periodi infernali, quando nevica, quando c'è una forte pioggia e permettere al riparo questi edifici che non sono mai stati manutenzionati. Oltre a questi abbiamo messo insieme altri edifici che sia a Lanciano, sia a Vasto, che sono le due città con più alloggi, ma anche nei piccoli comuni hanno delle difficoltà da un punto di vista di salvaguardia di quelle che sono la struttura, i balconi, la pericolosità diciamo. E questo ci ha permesso a noi di fare una prima mappa e di portare al risultato un intervento di circa 1.100.000 Euro, che non è una grande cifra, ma con i canoni che sono fermi al 1996, con la legge 1996, per noi rappresenta un grosso risultato, mettere in sicurezza e nello stesso tempo garantire un'azione incisiva dell'ente, una presenza e una salvaguardia del patrimonio.